Musica Bella ragazzi come sempre è ZAM che vi parla e oggi sono tornato per credo l'ottavo episodio del Q&A e diciamo che ultimamente sono stato un pochino occupato in quanto fervo nei preparativi per il Romics questo video penso lo farò uscire domani mentre appunto sarò a questa fiera di Roma e dunque ecco detto questo chi c'è ci vedremo là mentre per chi non c'è ricordatevi comunque che il 16 aprile ci sarà la serata del Drago d'Oro a Milano che si svolgerà alla discoteca Limelight che quel giorno sarà adibita a diciamo tipo centro conferenze o quello che è non lo so solamente che ecco l'orario di apertura al pubblico sarà alle 9.30 tipo quindi magari per chi ha scuola forse è un pochino un problema però vabbè speriamo che riusciate a venire tutti detto questo direi di partire con la prima domanda TheAxel781 mi chiede Zampa hai mai platinato un gioco? allora diciamo che c'è stato un periodo in cui davvero ero malato per i platini dei giochi cioè praticamente giocavo solamente per sbloccare i trofei e prendere quindi il platino no? però se devo essere sincero c'è un solo gioco che mi ricordo di aver platinato ed era Assassin's Creed 2 che penso tutti riescano o siano riusciti a platinare perché è un titolo davvero facilissimo da completare al 100% in quanto anche semplicemente giocandoci senza trovare tantissime cose fate il 90% degli obiettivi come minimo e quindi ecco diciamo poi per un amante del gioco come me finirlo al 100% non è stata assolutamente un'impresa Assassin's Creed 2 quindi è un altro che mi ricordo di aver platinato Uncharted 1 mi sembra ci ho bestemmiato fino alla fine dei miei anni però Uncharted 1 mentre il 2 non sono riuscito a finirlo perché mi ero bloccato tipo mentre lo facevo a distruttivo la modalità più difficile mi ero bloccato in un punto tipo quando c'era la neve bestemmiavo talmente tanto che ho detto basta lasciamo perdere e mi è mancato poco poi anche altri giochi sono stato lì per platinarli ma onestamente non me li ricordo quindi diciamo Assassin's Creed 2 e Uncharted 1 Livframe mi pone una domanda davvero interessante mi chiede Zamp ma quando incontri altri youtuber o comunque così altre... sì youtuber preferisci chiamarli per nick o per nome reale? allora diciamo che questa esperienza per ora l'ho avuta solo al Games Week probabilmente l'avrò domani a Romics anzi sicuramente però diciamo che ad essere onesti ci chiamiamo tutti con i nostri nick perché comunque sentendoci ogni giorno su Skype anche quando poi ci incontriamo in real life ci viene naturale chiamarci vedo Ron lo chiamo Ron poi ovvio che ogni tanto lo chiamo Teo ma perché il suo è un nome cortissimo e comunque ecco anche su Skype e così comunque ce l'ho anche su Facebook lì Teo tre lettere è un nome che ti ricordi no? mentre per esempio altri youtuber che hanno nomi più lunghi tipo Fuzz o comunque Yoman sì potremmo anche chiamarci per nome ma ormai diciamo si è instaurata questa relazione tra nickname di youtube e quindi ci chiamiamo così ecco non c'è un motivo particolare ma penso più che altro per comodità e abitudini ecco Psycho Killer Q&A Zampa secondo te ci si può divertire lo stesso giocando all'Xbox se non si possiede un abbonamento Xbox Live allora sicuramente ci si può divertire perché in ogni caso anche non possedendo un abbonamento potete usufruire di tutti i titoli che non richiedono una connessione online o che perlomeno non abbiano una componente multiplayer ecco io magari questa cosa molta gente non la sa ma la mia prima console è stata l'Xbox e non avevo Xbox Live perché non avevo possibilità di collegarmi ad internet a chi mi segue dall'inizio sa cosa era di preciso che bordello c'era ma ecco non avendo la possibilità mi limitavo a giocare a cioè giocavo a tutti i titoli ma solo alla componente single player che dire mi sono divertito anzi forse mi diverto più di oggi perché davvero in alcuni multiplayer vedesi code ma anche tantissimi altri FIFA quello che è spesso si sparano più bestemmie che ci si diverte ecco quindi sì sicuramente ci si può divertire però ecco se dovete comprarvi ecco sempre tra questo PS3 Xbox allora per me non c'è una console migliore anche se portendo un po' di più verso PS3 perché secondo me è un pochino più completa sebbene poi giochi più spesso su Xbox una volta giocavo molto di più sulla Play ma da quando mi sono spostato e ho portato solo l'Xbox qua perché la Play là mi serve per vedere film e tutto il resto dicevo la Play mi sembra un pochino più completa e soprattutto ha un online gratuito che sì potrà fallare quanto volete ma alla fine sempre gratis è ecco non pago nemmeno troppo quello dell'Xbox però diciamo a parità di console senza considerare siti da cui potete prendere abbonamenti a minor prezzo la Play secondo me è leggermente in vantaggio comunque ciò non toglie che anche non possedendo un abbonamento a live ci si possa divertire comunque giocando in single player ecco Roma99 Marco mi chiede cosa ti hanno detto i tuoi genitori quando gli hai detto che facevi video allora niente perché innanzitutto fino a che ne so quando c'avevo 10.000 iscritti non gli ho detto niente perché comunque c'era una cosa così tranquilla e appunto senza troppo impegno poi quando ho visto che il canale cominciava a salire gliel'ho detto e ce l'hanno accettato senza nessun problema ecco se devo spezzare una lancia a favore dei miei genitori e che se c'era da fare qualcosa di importante che comunque ritenevo importante e loro ritenevano che non fosse nociva per me me l'hanno sempre lasciata fare senza troppi problemi ecco nutkiller123 mi chiede ti piace il kebab? allora sì il kebab devo essere sincero allora io sono molto schizzinoso nei cibi molto spesso non mi piace nemmeno quello che mi cucina mia madre ma comunque ho dei gusti veramente molto particolari e il kebab ero sempre stato impaurito diciamo di provarlo perché? perché cioè quella roba lì lo vedevo anche al telegiornale comunque quando uscivo con i miei amici vedevo sta carne qui appesa sullo stecco di ferro che bruciava e quello che la tagliava con la macchinetta ho detto ma che è quella roba poi un giorno i miei amici mi hanno convinto mi hanno detto cioè veramente sì i miei amici mi hanno convinto e siamo andati appunto in questo kebab ho detto mangiamolo magari mi sorprenderà infatti così è stato adesso sono un grandissimo amante di questo tipo di cibo e ogni volta che se ne presenta l'occasione diciamo lo mangio perché davvero è qualcosa di squisito a dir poco sì so che forse dall'aspetto può non sembrare così ma vi assicuro che lo è anche perché poi all'interno potete metterci adesso non so per gli amanti del piccante ci sono 3000 tipi di salse oppure se lo volete fare più salutare ci mettete che ne so l'insalata i pomodori le cipolle c'è di tutto insomma io personalmente ci metto solo carne e patatine fritte la penultima domanda di oggi è senza ammittente semplicemente perché penso che youtube si sia buggato e non c'è né avatar né nome so solo che mi chiede da quando hai la partner sei diventato più spendacione o sei rimasto lo stesso allora ad essere sincero non è che sia diventato più spendacione perché comunque so il valore che hanno i soldi so dargli il giusto valore e quindi diciamo quando posso cerco di non spendere ecco non è che sono un taccagno però diciamo quando posso fare a meno di comprare una cosa lo faccio però ecco da quando ho la partner sicuramente mi sono tolto qualche sfizio ho comprato cose che altrimenti credo mai avrei mai avrei comprato e quindi spendacione no ma più come dire così per togliermi qualche sfizio appunto niente di che Alessandro Rubeca mi chiede Q&A jump quando sarai grande? abbandonerai youtube? allora questa è una domanda alla quale è difficile rispondere perché comunque ecco diciamo non potendo prevedere il futuro è abbastanza difficile dirvi cosa farò da grande l'intenzione per adesso è chi mi conosce bene comunque sa che cambio intenzione con la rapidità di non lo so di un veloci raptor non so manco che bestia è però si sente nomina spesso e quindi l'ho detto però vabbè da grande abbandonerò youtube non lo so perché per adesso è una grandissima passione mi piacerebbe farlo fin quando ce n'è la possibilità al momento no cioè penso che che continuerò ovvio che poi a un certo punto smetterò perché comunque cioè è che posso andare avanti in eterno però penso che spero più che altro che fino a a un buon numero di anni resterò su youtube almeno finché mi divertirà e finché avrò lo stimolo di fare video appunto poi magari domani quitto non lo so però ecco per adesso mi sento di mi sento di rimanere detto questo l'episodio del Q&A è finito come sempre vi svolto a lasciare le vostre domande qua sotto nei commenti un bel mi piace se il video vi è piaciuto un commento e se non avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale detto questo noi ci vediamo col prossimo video beh ragazzi ciao da Zampetti bella